Siamo partiti da Pesaro proprio per avere la possibilità di poter ammirare, far ammirare a chi vive in questo capoluogo la bellezza storica, vincolata anche dalle belle arti di questa sede. Abbiamo iniziato da una parte che purtroppo nel tempo non è che si era deteriorata ma aveva dei problemi, vuoi per gli eventi atmosferici e anche un po' di incuria tenuta negli anni passati. Oggi grazie all'attività di un'azienda artigiana che ha lavorato alle Clemente sul recupero, al nostro ufficio di progettazioni con il geometra Capannari, tutta la struttura camerale dal segretario generale Schiavone al dottor Zantri, iniziamo da Pesaro e recuperiamo delle bellezze che su questa sede fanno una differenza enorme. e dare una nuova immagine anche visiva delle nostre sedi per le comunità dove queste hanno la locazione. È importante, è importante in un momento in cui l'economia ha delle problematiche far vedere che investiamo dei pochi soldi ma quei pochi soldi sulle nostre sede le investiamo per avere anche una dignità di immagine. e un recupero storico di questi edifici è una valorizzazione anche per tutto quel mondo turistico che visitano le nostre città e nei giorni del FAI vengono visitate anche le nostre camere di commercio, come delle bellezze che hanno all'interno delle opere d'arte importanti. Un recupero prezioso di spazi e di elementi architettonici diciamo di questa città, di questa comunità che credo costituiscano veramente o apportino veramente valore aggiunto al sistema culturale e architettonico urbanistico di questa città. Siamo dentro un palazzo che è anche un esempio mirabile di architettura razionalista, molto ammirato, molto visitato nelle occasioni in cui attraverso il FAI o attraverso altre aperture straordinarie viene reso visibile, oltre che per le funzioni della Camera di Commercio, ma è anche un bellissimo segno, chiaramente moderno, all'interno del tessuto di corso 11 settembre e in generale di questa parte del centro storico. Quindi in più, lasciatemi dire, l'abitudine a guardare un po' in alto, guardare i balconi, eccetera, l'abbiamo scoperto anche organizzando in passato dei concerti, si era un po' persa, siamo sempre a guardare i telefonini, siamo sempre a guardare per terra. In realtà spesso non vediamo la bellezza delle nostre vie, le bellezze architettoniche, tra cui la facciata, il palazzo, ma anche in particolar modo i balconi, che sono stati riscoperti oggi, restaurati e che appunto testimoniano la loro bellezza, anche la loro cifra storica, architettonica del periodo che stanno a testimoniare. Quindi è sicuramente un bellissimo intervento, per cui ringraziamo la Camera di Commercio in una strategia regionale di qualificazione e riqualificazione delle proprie sedi ed è anche un bel segnale sul corso, ora che è stata anche riscoperta la facciata di Palazzo Perticari e speriamo presto che possano procedere anche l'inaugurazione e quindi una via a cui teniamo molto in termini di passeggio, ma anche in termini di commercio, poi siamo a sede della Camera di Commercio qui e che sarà anche al centro dell'attenzione degli investimenti dei prossimi mesi e dei prossimi anni, che vorremmo mettere sia nel Recovery Fund che nel progetto di regenerazione urbana che spingeremo sul centro.